Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Nel corso di questo sabato l'alta pressione continuerà a dominare su quasi tutta Italia come già è ben evidente da queste immagini satellitari solo la penisola iberica sarà l'unica area dell'Europa a fare i conti col maltempo a causa di una depressione atlantica proprio questa perturbazione minaccerà il sud Italia e le aree interne del centro durante il fine settimana e ad inizio prossima settimana Per quanto riguarda questo sabato, giornata da piena primavera su tutto l'Abruzzo cieli sereni ovunque, qualche velatura innocua tra pomeriggio e sera quindi non ci saranno precipitazioni Temperature stazionarie massime tra i 13 e i 17 gradi le minime in ulteriore lieve aumento tra i 4 e i 10 gradi i valori più alti quindi lungo le coste ventilazione molto debole e regime di brezza Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video